Buongiorno, il mio sarà un breve saluto che porto al nome della Conferenza delle Regioni del Presidente Bonaccini che è fuori per impegni istituzionali. Tanto beh, direi grazie per l'ottimo lavoro. Io credo che in giornate come queste siano importanti per acquisire quella consapevolezza e per quella attenzione che il tema merita, ma anche per trovare quell'equilibrio che talvolta nella politica del pendolo, in qualche modo che l'Italia, ma la politica in generale, tende a perseguire in oscillazioni talvolta vaste, ci si è talvolta totalmente disinteressato per un lunghissimo periodo di tempo, talvolta intervenuti in modo spropositato, forse dall'altra parte con interventi che addirittura hanno reso difficile quelle opere e quelle attenzioni e quegli interventi che sono invece necessari in un'oscillazione troppo vasta del pendolo. Io credo che l'equilibrio dello sviluppo sostenibile a cui si è arrivati ormai come concetto ampiamente diffuso sia quello intorno a cui si deve lavorare e le istituzioni devono lavorare tutti insieme. Ancora più importante questa giornata viene, e in questa sala, alla vigilia dell'apertura di una legislatura che ci auguriamo sia lunga e proficua, al di là di ogni dibattito politico e quindi per dettare un'agenda di cui il nuovo Parlamento si dovrà occupare, speriamo, in modo assolutamente bipartisan e disinteressato rispetto alle dinamiche della politica partitica. Il tema dell'ambiente è evidente a tutti, è un tema da un punto di vista politico sempre più verticale, quel che accade nel mondo interessa l'ultima provincia, l'ultimo comune del nostro Paese, quindi è evidente che questo Parlamento, il prossimo governo che verrà sui temi dell'impegno europeo, di una politica europea sempre più incisiva della presenza del nostro continente e del nostro Paese con lui, nelle dinamiche del dibattito mondiale deve essere più presente ed è sempre più un tema orizzontale tra le istituzioni per via della legislazione concorrente, per via anche di quel dibattito che si è aperto nell'ultimo scorcio di legislatura circa le autonomie e le legislazioni concorrenti, per via di quella collaborazione talvolta anche molto proficua. Io vengo da una regione dove ad esempio i cantieri sul dissesto idrogeologico stanno marciando e stanno marciando bene con il Ministro Galletti, abbiamo lavorato molto e a lungo su questo tema così come con l'unità di missione che è stata istituita dopo appunto gli alluvioni dolorosi dei primi anni del decennio in corso. Credo anche che sia cresciuta la consapevolezza di quanto investire sull'ambiente comporti anche da un punto di vista dell'economicità del sistema un investimento proficuo per il nostro Paese non solo perché l'ambiente è un asset come se fossimo un'azienda che va preservato perché l'Italia sull'ambiente gioca un pezzo importante del PIL futuro e non solo per quello che diceva il Presidente Gentiloni delle rinnovabili e del sistema industriale ma io credo anche del sistema turistico, della tutela in generale del nostro paesaggio che è un bene fondamentale del nostro paese ma anche perché tutti i sindaci, tutti gli amministratori locali e il Governo medesimo sa benissimo quanto è costoso intervenire dopo sia in termini di dolore talvolta per le vittime sia in termini evidentemente di costo economico per le istituzioni. Prevenire è un lavoro assai più economico e serio che non curare dopo che sono successe le varie vicissitudini di cui il nostro Paese ricordava il Premier, il terremoto, io ricordo ovviamente venendo dalla Liguria il dissesto idrogeologico e le alluvioni ma il sistema delle calamità è abbastanza vasto e variegato. Quindi io credo che siamo alla vigilia di una legislatura, la conferenza delle Regioni ha dato prova di grande responsabilità bipartisan nel confrontarsi con il Governo e tutta una serie di documenti che sono stati via via analizzati e approvati di concerto nella passata legislatura. Io credo che ci siano molti temi che vadano affrontati in questa e li conosciamo bene tutti. Io credo che il prossimo Governo e il prossimo Parlamento insieme alle Regioni debba affrontare in fretta la tempistica ancora troppo lunga d'apertura dei cantieri, dalla progettazione all'apertura dei grandi cantieri. Da noi si sta per aprire il grande scolmatore del Bisagno che è uno dei grandi cantieri previsti subito dopo gli alluvioni del 2011. Questa è certamente la prima cosa. La seconda cosa è la protezione civile dall'altro lato del pendolo e quindi è evidente che il sistema di protezione civile dopo la legge 100 vada anche su questo nella passata legislatura. Un pezzo di strada si è fatta. Bisogna continuare ad efficientare, valorizzare ed integrare i nuclei regionali di protezione civile in un sistema sempre più efficace. Occorre, siamo alla vigilia anche della programmazione dei nuovi fondi europei FSC. Occorre che su questo vi sia un confronto tra istituzioni ed Europa molto importante perché quei fondi vadano orientati nella tutela del nostro territorio. Così come io credo che in termini di amministrazione e di bilancio si debba ragionare, e lo diciamo da tempo, su alcuni investimenti di altissima qualità che possono in qualche modo e dovrebbero in qualche modo essere svincolati dal patto di stabilità o quantomeno, e questa è alla portata delle istituzioni italiane, gestiti sugli avanzi di bilancio che oggi si chiedono a regioni e molto spesso anche ai comuni, gestiti in questo senso in modo virtuoso. Se una regione o un comune virtuoso ha avanzi di bilancio, io credo che dovrebbero questi essere svincolati dal patto e poterli utilizzare in interventi per l'alta qualità che questi hanno sulla tutela del nostro territorio. Quindi si apre un quinquennio importante sia di politica europea, l'anno prossimo si voterà il nuovo Parlamento europeo, si apre un quinquennio importante perché si è appena votato per il Parlamento. Credo che tutte le forze politiche abbiano acquisito una profonda consapevolezza di cosa significa parlare di ambiente. Certamente l'hanno acquisita le regioni nel loro compresso e i tanti amministratori locali che tutti i giorni si trovano a confrontarsi con le migliaia di frane che abbiamo sul nostro territorio e sugli ettari ancora oggi consumati e mangiati da politiche talvolta dissennate di uso del territorio. Bene, abbiamo davanti a noi obiettivi difficili, li ha elencati prima il Presidente Gentiloni e molti ci riguardano direttamente come regioni, uno su tutto le discariche ma non siamo estranei ai piani energetici, alle riqualificazioni della centrale di smesse e tutto quello che comporta. Penso che la consapevolezza sia ormai radicata e profonda e che quindi ci siano le condizioni tutte per un buono e proficuo lavoro al di là dei singoli punti di vista dei partiti ma penso che le istituzioni e anche le forze politiche abbiano una maturità per un confronto non solo civile ed urbano che è sempre auspicabile ma anche efficace ed efficiente come si è dimostrato nell'ultimo scorso di legislatura. Grazie a molte per il vostro lavoro e saluti a tutti. Grazie. 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 Grazie.